Bari 0, Perugia 2, decidono le reti al 26esimo di Palcinelli e al 76esimo di Del Prete. Sicuramente ci saranno da risolvere delle inquietudini tattiche che vive lo stiramento del Bari quando viene attaccato. In particolare sarebbe ingiusto imputare solo all'arbitro le motivazioni della sconfitta. Dopo le polemiche e i veleni, l'imperativo è ripartire. Archiviato il K o casalingo con il Perugia, sabato prossimo il Bari è atteso dall'insidiosa trasferta sul campo del neopromosso Frosinone. La storia e le emozioni di Frosinone Bari ve le regala il Canto del Gallo a partire dalle 14.45 su Controradio. Perché l'importante non è esserci, ma arrivare dritti al cuore. È un programma realizzato in collaborazione con Attolico Porta e Finestre. Per informazioni www.attolicosrl.it